Dopo tanto migrare, per la Vispesero arriva la seconda partita nell'arco di sei giorni davanti al pubblico amico del Benelli. Dopo l'1-1 interno col Pineto, arriva Pesero Larezzo, reduce dalla vittoria interna col Gubbio, che spedisce Toscania 14 punti in classifica. Ovvero tre in più dei pesaresi, che sono arrivati al sesto turno utile consecutivo, ma con 11 punti in 11 gare, sono ancora in linea di galleggiamento play-out. Una continuità che dunque urge mantenere per proseguire la risalita in classifica. Io sono contentissimo di questa squadra, di questo gruppo, di questi ragazzi, però vedo veramente che ha margini migliorativi enormi, quotidiani e quindi lavoriamo per quello. Perché nell'essere molto felice e fiero di allenarli, vedo che abbiamo margini migliorativi bisogna lavorare tanto e sodo per migliorare. Quindi questo è il tema di ogni seduta di allenamento, arrivare al campo con quell'obiettivo lì. Di gara in gara prepariamo le cose sulle quali possiamo essere forti e dobbiamo cercare di limitare al massimo le caratteristiche loro, che hanno caratteristiche offensive forti. Viscono un occhio la preparazione della partita e un altro l'infermeria, dove rimarranno ancora il portiere neri e Blu Mamona e dove si valuta la refinitura per capire se gli acciaccati Zoe e Zagnoni potranno essere del match. In attacco recupera Silla, ma l'islandese Carlson è costretto a fermarsi di nuovo. In quell'impatto ha avuto la frattura dello zigomo, quindi è stato un impatto forte e quindi Carlson lo perdiamo per un po' di tempo, vediamo quanto ci diranno i medici.